Sento il bisogno di comunicare un disagio, un socio culturale, un grido generazionale. Un giovane ideale che vuol farsi sentire, dagli orecchie del potente che non vuole capire che le nostre non sono sterili proteste, ma vere idee uscite dalle teste di chi pensa sempre al giusto, di chi reagisce dopo aver visto. Fuori da ogni giusta regiazione, fuori da ogni fottuta corruzione. E con la voglia di vivere e svegliare, essendo ancora capaci di sognare. Sento il bisogno di comunicare la voglia matta di vedere cambiare le cose che restano sempre le stesse, di vedere realizzate tutte quelle promesse. Un futuro che adesso appare legato, delle sorti di un governo che non è cambiato, del domani incerto, di un paese spezzato. Fuori da ogni giusta regiazione, fuori da ogni fottuta privatizzazione. E con la voglia di vivere e sperare, essendo ancora capaci di sognare. Noi siamo quelli che contribuono la strada, noi siamo quelli delle manifestazioni, contro la vergogna del ladro che non paga, contro il potere delle raccomandazioni. Noi siamo gli eredi di un mancato progresso, laureati finiti a pulire un cesso, una generazione con le spalle al muro, che deve crollare per il nostro futuro. Fuori da ogni ingiusta regiazione, fuori da ogni fottuta corruzione. E con la voglia di vivere e sperare, essendo ancora capaci di sognare. Capaci di sognare, capaci di sognare, capaci di sognare, capaci di sognare. Capaci di sognare, capaci di sognare, capaci di sognare.